Ciao a tutti! In seguito al decreto del governo che impone la chiusura di palestre, centri sportivi e quant'altro, abbiamo deciso nella giornata di domani di chiudere per far luce sulla nostra posizione e capire se apparteniamo a questo o quant'altro. Ci scusiamo ovviamente con tutte le persone che hanno preso appuntamento con noi nella giornata di domani. Non vi nego un po' di amarezza nostra e di tanti studi che come noi da maggio rispettano appieno le regole che il governo ha deliberato con distanze, numero di persone all'interno della struttura eccetera, addirittura un'entrata e un'uscita separate per non permettere alle persone di incontrarsi. Abbiamo investito ovviamente su qualsiasi presidio anti-covid il governo ritenesse più utile per combattere il virus, ma a quanto pare tutto questo non è servito. Quindi domani resteremo chiusi, cercheremo di capire meglio come comportarci nei prossimi giorni e eviteremo aggiornati. Abbiamo incrementato le lezioni online per permettere a tutti di seguire, ovviamente sotto la guida dell'istruttore Zen, la sua lezione di Pilates. Potete andare sul sito, avete il calendario della settimana e sui social poi usciranno tutte le altre nuove. Mi saluto, vi abbraccio e speriamo di venerci presto. Ciao a tutti!